Inizierà giovedì prossimo, 8 marzo, e durerà fino a venerdì 16 l'ottavario dedicato a Santa Caterina da Bologna, presso il santuario del Corpus Domini di Via Tagliapietre, dove sono custodite le reliquie e le memorie della Santa. In preparazione all'anno della fede, la comunità delle monache clarisse e dei missionari identes propongono il tema Caterina, maestra e modello del cammino di fede. Quest'anno ricorre il terzo centenario della canonizzazione della Santa e il sesto centenario della sua nascita. Oltre alle celebrazioni liturgiche, sono previsti momenti di riflessione, musica e poesia. Il Cardinale presiderà la celebrazione solenne venerdì 9 marzo, festa liturgica della Santa, alle ore 18.30.